Le truppe e i riservisti dell'esercito israeliano si addestrano alla guerriglia in territorio nemico, ma l'offensiva di terra, almeno per ora, può aspettare. Israele ha intensificato i raid aerei e ha effettuato alcune incursioni mirate nella striscia di Gaza, ma secondo la radio militare avrebbe deciso di rimandare l'annunciata invasione con i carri armati alla fanteria, una scelta legata alle conseguenze che potrebbero esserci con l'attacco. Gli hezbollah libanesi e i pazdarani iraniani hanno infatti minacciato di entrare nel conflitto nel caso in cui la striscia di Gaza dovesse essere invasa. Oggi, da Teheran, i guardiani della rivoluzione hanno fatto sapere di essere pronti a colpire la città israeliana di Haifa. La crisi dunque rischia di allargarsi e per questo Israele, probabilmente, prima di dare il via all'eventuale operazione di terra, aspetta l'arrivo delle nuove truppe che gli Stati Uniti stanno inviando nella regione. I segnali di un conflitto su larga scala nel frattempo però si moltiplicano. Bombardamenti e lanci di missili sul confine tra Israele e Libano sono sempre più intensi. In due settimane su questo fronte sarebbero stati uccisi 30 miliziani di Hezbollah e 6 soldati di Sahal, l'esercito di Tel Aviv. Per tagliare la linea dei rifornimenti ad Hezbollah che partono dall'Iran e arrivano nel sud del Libano, inoltre, l'aviazione israeliana ha colpito più volte gli aeroporti di Aleppo e Damasco, in Siria. Ma Teheran muove anche altre pedine. Gli Uti, dallo Yemen, dichiarano di essere pronti a bersagliare i cargo israeliani nel Mar Rosso, mentre le milizie sciite filo-iraniane che si sono insediate nel nord dell'Iraq continuano a lanciare i droni contro le basi americane che si trovano nell'Iraq occidentale. Questo, mentre il governo di unità nazionale israeliano, nato dopo il 7 ottobre tra la destra di Benjamin Netanyahu e i centristi di Benny Gantz potrebbe presto perdere pezzi. Secondo fonti di stampa, almeno tre ministri starebbero infatti valutando le dimissioni, in disaccordo con il premier, che è sempre più in difficoltà. Un sondaggio pubblicato oggi dice che il 75% degli israeliani ritiene Netanyahu responsabile dell'attacco subito da masse e negli ultimi giorni sarebbero trapelate tensioni anche con i vertici militari.